Ti voglio credere per come cammino Per le promesse che comunque mantieni Ti voglio credere Un applauso i candidati della lista numero 3 Siamo Albanella Marzia Lettieri Carmen Croce Teresa Guadagno Lucia Guarini Diego Rufo Carmine Cerruti Gabriella De Rosa Giancarlo Fedone Michele Cammarano Consuelo Guaglia Carmine Frunzo E Claudio D'Angelo Ed ora Un applauso più forte Per il candidato sindaco Enzo Baggini Dipende quanto puoi pagare E tu che sai quali porte aprire Sembri sapere come va a finire Buonasera, buonasera a tutti Grazie Tanti, tantissimi Non me li aspettavo così tanti Grazie Grazie del tempo Grazie del tempo che Che dedicate a me Alla nostra lista Ma è lo stesso tempo che state dedicando In questo momento Al vostro paese State scegliendo State facendo Vi state facendo un'idea State State pensando Se è il caso Di dare fiducia A uno che Molti di voi Magari non conoscono O lo conoscono Indirettamente Chi è? È una faccia nuova Sì Probabilmente Per molti di voi Lo sono Per molti altri No Perché Rapporti di stime Di amicizia Mi legano con voi Da Da almeno 30 anni Non si può conoscere tutti Ma grazie anche Della scommessa Che state Che mi auguro Vogliate sottoscrivere con me E non è una scommessa al buio Perché è la stessa scommessa Che avete sottoscritto Con voi stessi Nel corso degli ultimi 20 anni Quando Per due decenni Avete provato Avete creduto Avete sperato Che quelle promesse Quelle garanzie Che vi Che ci davano Fossero Fossero poi mantenute Fossero realizzate In tutto In parte Poco importa Fra quelle persone C'ero pure io Io per vent'anni Ho votato qui Ad Albanella Per vent'anni Ho creduto E sperato A quelle promesse Adesso Non ci crediamo più Ma non è che non ci credo io O i miei candidati Non ci credete voi Perché le avete misurate Le avete Palmo a palmo E noi ricordavamo Il canile Le strade Le scuole A volte anche il lavoro E poi Ci venivano Negate Si Si cercavano Giustificazioni Si diceva Non adesso Fra un po' E beh Questo poi è passato Noi il tempo E le opportunità Le abbiamo date tutte Vent'anni Vent'anni Sono una vita Credo che abbiamo acquisito Il diritto Non noi Non io Ma voi Di andarci a prendere Quelle cose Che c'erano state promesse O quantomeno Di andare a verificare Se quelle cose Erano realizzabili o meno E se non erano realizzabili Per quale motivo E se non lo sono state realizzate Perché Per questo dicevo State facendo una scelta State scommettendo Ma sulla vostra capacità Di capire E sulla vostra capacità Di intendere Effettivamente Quello che può essere Il futuro Di questo paese Non sentirete Solo la mia voce Stasera Sentirete anche Quelle di Di Marzia Di Carmen E di Diego In altre serate Avete sentito Le voci Di altri nostri amici E altri ancora Ne sentirete Nei tre prossimi Nei due prossimi Comizi Domani sera Bosco E giovedì A San Cesareo Sono le vostre voci Sono Quelle voci Che direbbero Le stesse cose Che voi direste Se ve ne fosse stata Data l'opportunità Stasera Quindi Io mi interrompo qui Ci salutiamo Più tardi Con un Con un mio intervento Sulle cose da fare E soprattutto Sul perché Quelle cose Non sono state fatte prima Quindi passo subito La parola A Marzia Buonasera Io sono Marzia Lettieri Per quelli che non mi conoscono E poi gli altri Mi stanno Stanno avendo modo Di conoscermi In questi giorni Perché Mi aprono Le porte Delle loro case E di questo Vi ringrazio Sono Cresciuta In queste campagne Io diciamo che abito Nella parte alta Di Cerrina Sono ritornata a vivere qui Dopo aver concluso Il mio percorso Di studi E quindi Conosco bene Le problematiche Quotidiane Che ci attanagliano In queste zone E come ho detto In precedenti interventi Sono E questa Diciamo La spinta Che mi ha portato Ad intraprendere Questa avventura Appunto In questi giorni Vengo nelle vostre case Vi ascolto Prima di Chiedere il consenso Perché È più importante Per me Capire Se i vostri problemi Sono gli stessi Che mi hanno spinta Ad intraprendere Questa esperienza Ed sono gli stessi Mi parlate Dell'emergenza idrica Mi parlate Della viabilità Delle strade Le buche Che non si può camminare Dei rifiuti Per strada Dei cani Del randaggismo Che è anche una piaga Che colpisce Soprattutto Queste nostre zone Di campagna Mi parlate Di tante cose L'emergenza idrica Probabilmente Lo possiamo dire Ormai È un problema Storico Ad Albanella Sono anni Che si attendono Soldi I fondi Per rifare Gli acquedotti E non arrivano mai Questi fondi Questi acquedotti Non si fanno mai E un po' Ci siamo abituati Alla carenza Dell'acqua Nelle nostre case Ci siamo abituati Abbiamo cercato La soluzione Abbiamo installato Serbatoi Molti di voi Ieri Mi hanno parlato Di contatori Dell'acqua Rotti E che nessuno Ripara Nonostante Più volte Siano stati Sollecitati Chi di competenza E Siamo abituati Alla carenza idrica Nelle nostre case Ma probabilmente Non possiamo Abituarci Ad aprire Il rubinetto E a trovare L'acqua marrone Questo credo proprio Che non possiamo Abituarci Oppure Non possiamo Abituarci Alla sabbia Che esce Da quest'acqua Magari Non ce ne Non ci si accorge Di questa sabbia Perché è una sabbia Sottile Ci si cucina E poi Siamo costretti A buttare la pasta Perché Non ce la mangiamo Noi la pasta Con la sabbia dentro Protestiamo E siamo isolati Perché nessuno Ci prende in considerazione Quindi a volte Dopo un po' Diventa anche Stancante Protestare E allora Stiamo zitti Perché tanto Nessuno ci ascolta Risposte non ne arrivano E ci indigniamo Ogni giorno di più Io sono indignata Perché più volte Ho fatto battaglie Personali Per l'acqua Più volte Sono andata In comune A chiedere Spiegazioni Dell'acqua marrone E risposte Non ce ne sono Sono sempre Molto vaghi Le strade Io sono stanca Di fare tutti i giorni Lo slalom Per le nostre strade Sono stanca Di trovare Buche Di trovare Di non trovare Nemmeno il modo A volte Di poter passare Per queste strade Le cunette Allagate Quando piove A volte c'è bisogno Della barca Ma nemmeno la barca Andrebbe bene Sarebbe meglio Avere un elicottero Probabilmente Quindi Queste cose Che sembrano cose Banali Perché le diciamo Tutti Perché sono Le prime cose Che mi dite Ma sono anche le prime cose Che tocchiamo ogni giorno E quindi Il disagio Nasce da questo Il disagio È quotidiano In questo paese Non è successo ancora Nulla di grave Probabilmente Dobbiamo aspettare Che succeda Qualche cosa di grave Perché Il codice della strada Ci insegna Che bisogna Mantenere la destra In alcuni punti Delle nostre strade Purtroppo Siamo costretti Ad andare dall'altro lato Si sa In Italia Non solo Ad Albanella Deve succedere sempre Qualcosa di grave Affinché il potere Si accorga Del problema L'immondizia Loro sanno Chi è Che non Non consegna L'immondizia Visto che vanno Porta a porta Ma questo problema Pare che No E vabbè Buttano l'immondizia In mezzo alla strada Ci dobbiamo stare Perché è così Che funziona Ormai ci siamo abituati A trovare le buste Buttate per la strada Io sono Indignata Da questa indifferenza Che hanno Probabilmente Lasciatevelo dire Anche un po' Diciamo per patriottismo Proprio verso le nostre zone di campagna Noi non siamo presi per nulla in considerazione Perché tanto abitiamo in campagna Tanto siamo diventati così bravi A risolverci i problemi da soli Che non ci prendono proprio in considerazione Tagliamo l'erba del nostro giardino Tagliamo l'erba delle nostre terre E qual è il problema? Ci tagliamo anche quella Sull'orlo delle strade Le cunette Le cunette ce le puliamo noi Perché nessuno Gliene frega niente Ed è per questo Che siamo Che nel venire A casa vostra Noi non vi chiediamo Solo il consenso Vi chiediamo Quali sono le vostre soluzioni Perché se da anni Non abbiamo l'acqua Se da anni Le cunette ce le dobbiamo pulire noi Le buche le dobbiamo ricoprire noi Evidentemente la soluzione Noi la teniamo È una soluzione semplice Si chiama manutenzione Ma evidentemente Lì sopra Ci sono interessi sempre più grandi E quindi le cose piccole Non sono di loro competenza Il randaggismo Mi stanno chiedendo tutti Ma il canile Che fine ha fatto Onestamente io non so rispondere Non so poi Magari vi risponderà Enzo Perché io Non so cosa rispondervi Su canile Che fine ha fatto Abbiamo solo cani In mezzo alla strada A quanto pare Ci stanno altri cani Di Albanella Che manteniamo Con le nostre tasche I nostri soldi In Calabria E intanto però Il canile Di Albanella Non funziona Cercherò di Concludere E vi voglio soltanto dire Che tutti Durante questa campagna elettorale Ci tengono a ribadire A precisare Che il nuovo Sono anche loro Allora io stasera Non voglio dire Che siamo noi il nuovo Anche se voi sapete Che noi siamo il nuovo Perché siamo tutte persone Che non ci sono mai Non si sono mai avvicinate A questa Alla politica Né al comune All'amministrazione comunale E allora io vi voglio Dire che noi Non è che siamo il nuovo Noi siamo voi Noi andiamo lì Con la nostra faccia Ma rappresentiamo voi Quindi il nostro impegno Può partire soltanto Dal vostro sostegno Quindi perché Io posso rappresentare Ognuno dei miei vicini di casa I miei amici Le persone anche che Ho avuto modo di conoscere In questi giorni Perché il problema Per il bene comune Deve essere una cosa Che riguarda tutto Non un cittadino di serie A Un cittadino di serie B Deve riguardare tutti noi E quindi a gran voce Voglio ribadire nuovamente Siamo Albanella Siamo noi Grazie E Marzia era una Che si vergognava Di parlare in pubblico E incomincio ad avere Il sospetto Che tu voglia prendere Il mio posto Dopo Marzia Carmen Dovrebbe essere un po' più dolce Buonasera Sicuramente cercherò di essere Più dolce Sono Carmen Croce E questa è la prima volta Che mi candido Alle elezioni Del nostro comune Non ho alcuna esperienza politica Vi posso dire Qualche tempo fa Qualche mese fa Un caro amico Mi ha invitato A partecipare A degli incontri Nei quali Gli argomenti trattati Riguardavano La situazione attuale In cui verse Il nostro paese Pensando che Non si potesse più Stare a guardare Ho deciso di impegnarmi Sono nata In questo paese Ci vivo Vorrei continuare A farlo E soprattutto Desidero Che le mie figlie Possano avere La possibilità Di rimanerci Faccio parte Di questo gruppo Siamo Albanella Che è formato Da persone oneste Pulite Coerenti Che hanno rifiutato Di fare Qualsiasi tipo Di compromesso Abbiamo l'obiettivo Di realizzare Il bene comune Del nostro paese E la volontà Di dare il massimo Iniziando Dalle piccole cose È arrivato Il momento Di essere parte attiva Vogliamo ridare Dignità A questo paese Perché non è Dignitoso Un paese Che non ha Degli spazi Per i ragazzi Una palestra Dove si può Accedere Senza dover Pagare A proposito Di questo In questi giorni Ho sentito parlare Di olimpiadi Dello sport Che fra qualche mese Si terranno Qua ad Albanella Mi chiedo Dove verranno svolte Se i campi sportivi Che sono presenti Sono diventati Cantieri aperti Non è dignitoso Un paese Che ha scuole Fatiscenti In cui manca Di tutto A partire Dalla carta igienica Ai prodotti Per la pulizia Addirittura Le risme Di carta Un paese Che ha delle piazze Non degne Di essere chiamate Tali Fatte Rifatte E mai completate Utilizzate solo Come parcheggi E non come luogo Di ritrovo Perché prive Anche di una semplice Panchina O di un lampione Per non parlare Poi di spazi verdi Quasi inesistenti E per niente Attrezzati Altra nota dolente È la cattiva Gestione Dei rifiuti Da anni Abbiamo un sistema Di raccolta Differenziata E un'isola ecologica Che avrebbe dovuto Con il nostro lavoro E cioè la differenziazione Dei rifiuti Contribuire ad avere Un paese più pulito Un ambiente salubre E soprattutto Dei costi minori Relativi al loro smaltimento Mentre Oggi ci ritroviamo A pagare Dei costi esorbitanti E abbiamo Microriscariche Dappertutto Ci impegneremo A ripristinare Il corretto funzionamento Della raccolta Differenziata Riutilizzando I codici a barre Posizionati Sui bidoni Che sono stati forniti E la card Per accedere Direttamente All'isola ecologica Verificando Il corretto Conferimento Dei rifiuti I virtuosi Verranno premiati Con scondi Sul pagamento Delle bollette In questi giorni Incontro tante persone E ho notato Che prevale in loro Il sentimento Della rabbia E di conseguenza La necessità Di dare sfogo Alle varie Lamentele Mi sono resa conto Di quante difficoltà Possono avere Le famiglie Che hanno in casa Con loro Persone anziane Non autosufficienti E famiglie Che devono gestire Da sole La presenza Di un disabile Risulta facile A dire A ognuno di noi Tanto c'è la pensione Ma quella Non basta neanche Arrivare alla terza Settimana del mese Il mio E il nostro desiderio È quello Di ritornare A dare fiducia Cosa non semplice Ma possibile La differenza La facciamo noi Quindi darei Un suggerimento A chi è deciso Di non votare Fate ancora in tempo A cambiare idea Per chi invece Ha deciso Di passare Il fine settimana Fuori Pensando di non fare Torto a nessuno Il torto Lo si fa a se stessi Perché prima o poi Bisognerà ritornare In questo paese Non tolgo più tempo Ai miei amici Vi invito A votare Prima che me La lista numero 3 Perché sono sicura Convinta Che un'albanella Migliore È possibile Grazie Se questa era la dolcezza Mi fai ricredere Diego Rufo Buonasera Vi ringrazio per essere qui Venuti ad ascoltarci Nuovamente Per il nostro Impegno Nelle elezioni Amministrative A fianco al candidato Enzo Baggini Noi ci troviamo qui stasera A San Nicola Nella zona Diciamo A metà Tra albanella E matinella Una zona centrale Una zona importante Dove c'è anche Cerrina Valle Centanni E altre zone limitrofe Che sono molto importanti Per due punti di vista Credo Fondamentali Il primo Storico culturale L'altro Economico produttivo Qui in questa zona Ci sono le nostre origini Abbiamo qui A poca centinaia di metri Un santuario Il santuario di Demetra Che simboleggia Proprio la storia La nostra tradizione Che è iniziata Molto tempo fa Che si accompagna Con quella Dei templi di Pestum Non siamo riusciti A recuperare Quel santuario Non siamo riusciti A dargli il giusto valore Forse noi Potevamo già Incominciare A inserirlo Recuperandolo Anche incominciando A interloquire A collaborare Con le università Guardate Ci vuole poco Basta poco Basta interperare Anche la soprintendenza Per cercare di Aprire dei campi scuola Per quelli che sono Gli studenti Che devono fare I tirocini All'interno Delle università Basta poco Basta della volontà Perché queste persone Potevano anche Soggiornare Nel nostro territorio Noi siamo qui A San Nicola E a Cerrina Soprattutto Che sono il cuore pulsante Della nostra economia E della nostra Attività produttiva Agricola E zootecnica Un territorio Che purtroppo È sotto gli occhi Di tutti Anche abbandonato A se stesso Dove Un'amministrazione È latitante È latitante Nei servizi Nei servizi primari Questa che è una terra È una terra Di lavoratori Soprattutto È una terra Dove questi lavoratori Come tutti Pagano le tasse Come tutti Pagano i contributi Però non vedono Non si vedono Praticamente I loro diritti I diritti Dei servizi Della viabilità Come vi è stato detto In precedenza E della rete idrica Fatiscente Che non permette Neanche di avere L'uso potabile Dell'uso domestico Delle acque Qui Soprattutto In questa zona E allora Di fronte a questo Bisogna avere Un'amministrazione Una classe dirigente Presente sul territorio Una classe dirigente Che sia un punto Di riferimento Per questi allevatori Per questi agricoltori Che sono Il motore Trenante Della nostra economia Non possiamo Più Non avere Un'amministrazione presente Perché Di fronte ad una crisi Come questa Una crisi forte Bisogna anche sostenerli Accompagnandoli Accompagnandoli come? Facendoli dei tavoli Di concertazione Con enti Quali Le camere di commercio Con enti Come Gli enti di credito Come i patronati Dare delle soluzioni Lavorare con loro Mettendoli intorno A questo tavolo E capendo come Aprire quei canali Che ci sono Molte realtà produttive Lo fanno Neanche nel nostro territorio Lo fanno intorno a noi Hanno aperto Questi canali Di import Export Soprattutto Gli enti Di credito Che fanno in modo Di dare Assistenza legale Assistenza e consulenza Sui finanziamenti Che possono essere garantiti Per aprire anche Quegli Uffici Quei punti vendita Anche all'estero Viene fatto da moltissime Imprese locali Lo fanno Per quanto riguarda La produzione Olivicola Solo che sono Persone che lo fanno In maniera solitaria A queste persone Non gli è stato neanche chiesto Come hanno fatto Quali sono state Le loro problematiche Per arrivare A questi mercati Noi abbiamo Un marchio Abbiamo prodotti Di qualità Abbiamo il marchio Cilento Abbiamo la dieta Mediterranea Che è un valore All'estero Non abbiamo Queste grosse Pretese Ma perlomeno Che un'amministrazione Una classe dirigente Sia da sostegno E accompagni Le nostre aziende Le nostre piccole imprese A rimanere A galla A non chiudere Perché ripeto Qui è il nostro Motore Il motore economico E traina Tutta la nostra economia Qui ci sono persone Abituate Con passione E sacrificio A lavorare Ci sono persone Che hanno fatto in modo Che i loro figli Avessero delle opportunità Delle opportunità Per studiare Per diventare Persone Altamente qualificate Nella professione Però Quegli stessi figli Questi stessi ragazzi Figli nostri Figli di questa terra Non sono nelle condizioni Di poter tornare Di poter investire Il loro futuro Sul nostro territorio Molte di queste persone Vi posso garantire Che vengono Presi all'estero Lì Vengono Praticamente Hanno le competenze E vengono presi Subito Qui praticamente Noi facciamo di tutto Per non averli Per mandarli quasi via Fuori Allora Scusate un attimo I nostri ragazzi Incominciano a abbandonare Il nostro territorio E a questo Si aggrava Un altro problema Quello dell'abbandono Delle terre E a questo È associato Anche il distesso Idrogeologico Abbiamo più frane Più esondazioni Abbiamo praticamente Un settore Completamente in crisi Noi dobbiamo Arginare anche Questo fenomeno Non dobbiamo Avere Non solo Le nostre case vuote Ma anche le nostre terre Abbandonate Allora Dobbiamo fare in modo Di rafforzare Questa filiera Una filiera Che possa dare Spazio Di occupazione A tutti Che bisogna Invertire il trend Bisogna fare in modo Che la gente Ritorni su questi territori Questa È la nostra terra Questa È la nostra terra Che difendiamo Con orgoglio E gli vogliamo Dare dignità Nuovamente E riscattarla Insieme Assiamo al Banella Ve l'avevo detto Le domande erano Le stesse Che vi fate voi Tutti i giorni Che ci facciamo noi Tutti i giorni A queste domande Noi dobbiamo Delle soluzioni E altrimenti Che ci Candidiamo a fare Che ci proponiamo A fare Adesso siamo Al Al terzo comizio Almeno per noi E E ho sentito Anche quelli Del dottor Iosca E dell'avvocato Lanza Gli ultimi Li ho sentiti Proprio oggi pomeriggio E mi sono fatto La domanda Chi ha copiato Perché le soluzioni Quelle che indichiamo noi Quelle che Hanno indicato loro Le soluzioni Agli stessi problemi Sono in molti casi Simili Se non addirittura Sovrapponibili Può cambiare Il modo di esposizione Io mi scuso Se non ho L'enfasi Oratoria Del Dottore Iosca O la Puntualità Della Avvocato Lanza Però Io mi sono domandato Ma allora io Che mi candido a fare Ci sono gli altri Che hanno le mie stesse soluzioni Qual è la differenza La differenza sta probabilmente E il giudizio È esclusivamente politico Sta probabilmente Nella credibilità Loro Hanno avuto Quei tempi E quei modi E quelle opportunità Che accennavo prima Per poter risolvere Questi problemi Che non nascono oggi Non nascono tre anni fa Non nascono tre mesi fa Sono problemi Che ci siamo portati dietro Da tanti anni E che nel frattempo Si sono ingigantiti Si sono decuplicati Hanno assunto nuove fisionomie Nuove gravità Nuovi pesi Aggiunti poi A quella che è La crisi economica Generale Ma loro Dov'erano? Quelle soluzioni Che oggi Ci propongono E sono identiche Alle nostre Perché Non le hanno attuate? Loro le conoscevano Già da prima Noi le abbiamo dovute Imparare Sui nostri disagi Sulla nostra pelle E quindi È un problema Di credibilità Di volontà politica Nell'attuarle Ma sentendo Gli incontri elettorali Del dottore Iosca E dell'avvocato Lanza Ho anche apprezzato Un'altra qualità La precisione Nell'esposizione Noi non abbiamo Effetti speciali Non abbiamo Slide O O altro Da mostrare È stata una nostra scelta Perché io credo ancora Che la politica Sia innanzitutto Confronto E guardarsi Negli occhi Più che guardare Uno schermo Alle nostre spalle Quelle cose Alle nostre spalle Già le sappiamo Certo Forse non sappiamo I numeri Non sappiamo Le grandezze effettive Ma sappiamo Quello Che quei numeri Significano Io stasera Ho fatto 5 minuti Di ritardo E me ne scuso Venivo da Capaccio Per fare presto Sono salito Per via Sigliaturi Mal me ne incolse Me ne incolse Perché ho preso Una buca Speriamo Di non aver Combinato Troppi danni Ma prendendo Quella buca Mi sono fatto Una domanda Il nostro sindaco Attuale Il dottor Capezzuto Nell'introdurre I due comizi Dei primi due comizi Dell'avvocato Lanza Ha tenuto a precisare Le cose Che erano state fatte E i costi Di quelle cose E i costi Arrivano A 6 milioni E qualcosa Di euro E a questi 6 milioni Ci ho voluto aggiungere I quasi 4 milioni Che ancora Ci restano Da pagare E che ci erano Stati lasciati In eredità Dalle amministrazioni Iosca Nelle quali Il dottor Capezzuto Ricordo Era Assessore al bilancio Quindi Cosciente 6 più 4 Fanno 10 Ma i 4 milioni Che ancora Dobbiamo pagare Si sommano A quelli Che altrettanto Abbiamo già pagati Arriviamo a 14 E beh Io Dopo aver speso 14 milioni In questo paese Se ancora Devo fare Lo slalom Salendo Un po' di fretta Lo confesso Per via Sigliaturi Al buio E beh Il problema Me lo pongo Sono io Che non capisco Dove sono andati A finire O come Sono stati Utilizzati I numeri Sono numeri Ma i numeri Vanno detti Tutti quanti Ai 6 milioni Di investimento A me Avrebbe fatto Piacere Che Il mio sindaco Avesse aggiunto Che negli ultimi Due anni Avesse aggiunto Un altro numero Il 115% Di aumento Delle imposte Locali E avesse aggiunto Anche il numero Dei giovani Che non sono più Residenti qui Perché hanno trovato Altrove Occasione di lavoro Ieri sera Sentivo Una percentuale Dell'82 E oltre Per cento Di raccolta Differenziata Anche questo È un altro numero È un bel numero Solo che però Anche qui Non capisco Aumentiamo La percentuale Di raccolta Differenziata Ma aumentiamo Anche il costo Dello smaltimento E a me Hanno sempre spiegato Che più si differenzia Meno si paga Per cui Voglio capire E qualcuno Me lo deve spiegare Qualcuno Ce lo deve Spiegare Ci sono Ci sono Anche altri Numeri Che Andrebbero Detti Io Onestamente Non li Conoscevo Li Ho imparati Ieri Da una Da un'amica Che sono andato A trovare Su a Bosco Chi mi Parlava Del Del vendere Un litro Di latte Di bufala Un euro Così come Succedeva Qualche anno Fa E del pagare Un quintale Di Un quintale Di mangime 40 euro Cioè il doppio Di quello Che si pagava Qualche anno fa E sono Sono problemi Sono Necessità Da dover Affrontare Sono questi I veri problemi Marzia prima Parlava di indignazione Di rabbia Noi non Non coltiviamo Né l'indignazione Né la rabbia Noi dobbiamo dare Risposte Dobbiamo dare Soluzioni Soluzioni Certe Quantificate Dicendo Dove andiamo A prendere i soldi E dove andiamo A prendere i soldi Beh io Io ve lo lascio Immaginare Ieri E' stata E' stata Proiettata Una slide Ci si proponevano 170.000 euro Di risparmi Annuali E quei numeri In parte erano Veri In parte erano Un po' Un po' Forzati Si parlava Di 55.000 euro Di costi Della politica Come indennità Ai nostri amministratori Non sono più questi Perché quel valore È calcolato Su un'aggiunta Di sette assessori Da adesso Gli assessori Sono quattro Quindi quel valore È già un po' Più basso Si parlava Dello staff Del sindaco Che lo si vorrebbe Senza retribuzione La legge Non lo consente O ce l'hai E lo retribuisci Secondo i contratti I contratti nazionali O non ce l'hai Di una cosa Si parlava Non lo so Se è vero Mi fido Di quello Che diceva Il dottore Iosca 20.000 euro L'anno Per bonificare Le discariche Le micro discariche Quelle abusive Quelle che I più malevoli Di noi Dicono No ma Quelli sono Gli extracomunitari Probabilmente Sono loro Ma probabilmente Saremo anche Qualcuno di noi Che forse Non ha Quel livello Di educazione Civica Che consentirebbe Se non ci fosse Il problema Di affrontare Meglio E più in economia Lo smaltimento Dei rifiuti Ma lo smaltimento Dei rifiuti Ha anche altri costi Che non sono Solo quelli Dei 20.000 euro Di micro discariche Ha per esempio Il costo Di un noleggio Di 80.000 euro All'anno Dei famosi Gasoloni Probabilmente Se ne avessimo Spesi 40.000 Per aggiustare I nostri mezzi Altri 2-3 anni E quindi Almeno Altri 160.000 euro Li avremmo Risparmiati Quindi come vedete I margini Di risparmio Ci sono Basta Saperli Individuare Ho avuto Un gran Gran piacere Ieri Quando sentivo Renato Che parlava Di Associazioni Di comuni Di mettere Insieme Con altri Comuni Alcune funzioni Per risparmiare Soldi Mi fa piacere Io ne parlavo 10 anni fa Lui 10 anni fa Faceva il sindaco Di questo paese Mi ha fatto anche piacere Quando ha detto Non guardiamo Al passato Nel passato C'è il bello E il brutto Prendiamo solo Il bello Dimentichiamoci Il brutto È una bella Filosofia di vita È la mia Filosofia di vita Quella che vede Il buono In ogni cosa Quello che cerca Di dimenticare Gli errori Quella che cerca Di Di non fare La polemica Inutile e gratuita Ma gli errori Vanno sanati Più che dimenticati E sanare Quegli errori Affidare Il risanamento Di quegli errori A chi Magari in maniera Del tutto Involontaria Li ha commessi E beh Non è Molto ragionevole Probabilmente Sarebbe opportuno Che A risanare Quegli errori Fossero Chi quegli errori Li ha pagati Sulla propria pelle Le soluzioni Che hanno indicato Quelle che abbiamo Indicato Sono Sono molto Simili Sovrapponibili Il che significa Che Agli stessi problemi Si danno Risposte Risposte Simili Però E se no Altrimenti avremmo fatto Un'unica lista Ci sono Delle differenze Parlavo prima Di credibilità Ma parlavo prima Anche di Di Trasparenza Sento dire Sento dire Che i nostri Amministratori Dovrebbero Rinunciare Alle indennità Non lo so Se è una cosa Buona O se è una cosa Cattiva Non voglio fare Una polemica Eccessiva Su questo Io credo Che un buon Amministratore Meriti Un buon Compenso Ma se Un buon Amministratore Decide Di rinunciare Al proprio Compenso Questo dovrebbe essere Perché intende La politica In quanto Servizio Questo dovrebbe essere Vero oggi Domani Ma sarebbe dovuto Essere vero Anche ieri Quindi Va bene Non Riduciamo i compensi Non ci riprendiamo È doveroso In questo momento Ma è un tema Un po' demagogico E populistico Da dover affrontare Visto anche I precedenti Parlavo prima Noi ci candidiamo Perché non dobbiamo Non perché denunciamo I problemi Quelli già li conoscete Ma perché abbiamo Le soluzioni Crediamo di averle Sono le soluzioni Che tutti quanti voi Avete ascoltato Sono quelle che Per esempio Parlando dello sviluppo Turistico di Albanella Indicano nell'oasi Di Bosco Camerine Giustamente Un elemento Importante di sviluppo Un valore Aggiunto Da sfruttare L'oasi Di Bosco Camerine Ha una storia Pluridecennale Nell'oasi Di Bosco Camerine Sono state Spesi Soldi E tanti Se dopo Tanti soldi Il risultato È l'annunciato Arrivo di 800 1200 2000 Non si capisce Bambini Nei prossimi due mesi E beh Mi sembra che forse Il conto Non torna Però va sviluppata L'oasi Si deve puntare Sull'oasi Perché come giustamente Si diceva Non è il biglietto D'ingresso Quello che fa Quello che fa Economia È tutto l'indotto Che poi si muove Intorno all'oasi Ma l'oasi Non nasce oggi L'oasi È nata Almeno 15 anni fa L'oasi È stata per almeno 10 anni Lasciata a se stessa E abbandonata Per riprendere L'oasi Due anni fa Stipulammo una convenzione Con il WWF Spendendo 100.000 euro In 5 anni Preciso Quei 100.000 euro Secondo me E lo diciamo Anche pubblicamente Potevano essere dati A nostri ragazzi Che potevano gestire Con le loro Con le loro competenze Con le loro qualità Quell'oasi Me lo ricordo La delibera Che approvò Quei 100.000 euro Fu votata All'unanimità Da tutto Il consiglio comunale Opposizione Opposizione compresa Perché quella sera L'opposizione c'era Ci sono stati giorni E occasioni In cui L'opposizione Non c'era proprio Era assente Me lo ricordo L'approvazione Di un bilancio Di previsione Il sabato 14 agosto Ore 12 L'intera maggioranza Io e forse Qualche altro amico Come pubblico I banchi Dell'opposizione Vuota Vedo fra voi Le facce Di qualche Ex amministratore Di un po' Di anni fa Sa bene L'importanza Dell'approvazione Di un bilancio Di previsione Nell'attività Amministrativa Di un ente In quell'occasione Non c'era nessuno Ma le proposte Che ho sentito fare Io le ho sentite Ieri sera Per cinque anni Non ho ascoltato nulla E c'era tutte Le possibilità Per farle Quindi Sono appuntamenti Elettorali Sono promesse Da marinaio E credo di no Vista la credibilità Delle persone Che le hanno Che le hanno fatte O sono soltanto Semplicemente Uno specchietto Per le allodore Chi è che non vuole Riparare le strade Ci vogliono i fondi Bisogna indicare Come trovare Quei fondi E soprattutto E soprattutto Bisogna ricordarsi Non chi Ha ridotto le strade In questo stato Ma perché Le strade Le nostre strade O l'acquedotto O tutti gli altri servizi Che richiedono Una manutenzione Ordinaria Si sono ridotte Nello stato In cui sono Perché piano piano Il comune Ha perso pezzi Piano piano Il comune Ha perso personale Piano piano Il comune È stato costretto Ad esternalizzare I servizi Con un aumento Forse anche Dei costi Ed una diminuzione Ovviamente Della qualità Del servizio Del servizio ottenuto Io non voglio fare Il processo O la ricerca Del colpevole A me interessano I perché Perché se individuiamo Le cause Sappiamo anche Come trovarci Soluzione Perché se abbiamo Risorse E noi ne abbiamo Tante Di ragazzi Che non hanno E che vorrebbero fare E non diamo a loro La capacità Di una Di intraprendere Piccole imprese Ma non necessariamente Cooperativistiche Anche piccole attività Anche piccole Piccole aziende Se non abbiamo Questa capacità Di indicare loro La strada Non avremo risultati E li incoraggeremo Ad andare via Noi a questi ragazzi Diciamo Restate Perché dal 26 di maggio Troverete in comune Non il famoso Informa Giovani Infopoint O cose di questo genere Ne abbiamo sentiti Fin troppi Ma diremo Che troveranno Una persona Un pool di persone Specializzate Che diranno loro Gratuitamente Come fare Per mettere su Un'impresa Dove andare A reperire I soldi E che le eseguiranno Per almeno due anni Gratuitamente Dopodiché Andranno Andranno Cammineranno Sulle loro gambe La carenza di manutenzione È la All'origine Dei nostri Dei nostri guai Vogliamo parlare Di scuole Parliamone Ma non perché Voglia fare polemica Ma perché Se dopo 15 anni Di amministrazione Un assessore Addetto Un assessore Al ramo Come si dice Avanza pubblicamente Dubbi O quantomeno Rammarichi Sul proprio operato Circa l'attività Di efficientamento Delle scuole Allora il problema Non lo pongo io Ma se lo pone Un ex amministratore Quindi significa Che quel problema Almeno a livello Di percezione Personale Di rammarico Personale C'è tutto quanto Io ogni cinque anni La risento La storia Delle scuole E finiamola Una buona volta Vediamo Se sono cadenti Reabbattiamo Se non sono cadenti Ci dobbiamo fare Quello che è necessario Fare Ma dobbiamo Far star sicuri I nostri figli Ma questo Non lo dico io Il dubbio Mi viene Nel momento In cui L'assessore Al ramo Avanza Delle perplessità Dei rammarichi Sul non aver potuto fare Quello che si voleva fare E allora forse C'era bisogno Di fare Quello che si poteva fare Andando in giro In questi giorni Come si dice A chiedere il voto A cercare il voto Mi sono imbattuto In tante situazioni Situazioni anche Di disagio Importanti Alle quali La nostra Non il nostro comune Ma la nostra collettività Non ha trovato Il modo Di poter Per dare una risposta Queste cose Oggi vengono indicate Col termine Di politiche sociali Ma nella Dietro questa Questa denominazione Ufficiale Si nasconde Una Una realtà Fatta di Sofferenze Magari tenute Anche nascosto Non fosse altro Per pudore Ed una Incapacità Da parte Della nostra Collettività O delle strutture Deputate Allo scopo A risolvere A risolvere Il problema E certo Perché le politiche sociali Quando diventano Campo di battaglia Campo di battaglie Per Politiche Finalizzate Al raggiungimento Di una poltrona Non hanno più Non raggiungono più I loro obiettivi Noi spendiamo Il contributo Che il nostro comune Versa Al piano di zona È di circa 50.000 euro All'anno Ebbè Se il piano di zona Non funziona Non gli ridiamo I 50.000 euro All'anno Ce li spendiamo Noi Ce li gestiamo Noi Abbiamo le figure Professionali Per farle E abbiamo Una proposta La faccio qui Stasera Davanti a voi Che non me la invento Perché viene fatta In altri posti d'Italia Quella del servizio Civile comunale Diciamo Ai nostri ragazzi A quelli che lo vogliono A quelli che sono impegnati Nel volontariato Dateci due ore Tre ore A settimana Del vostro tempo Per aiutare Per dare una mano A chi Fra di noi Ha avuto meno fortuna E sapremo Riconoscervi Dei vantaggi Vuoi Nell'acquisto Dei biglietti Del treno Vuoi Nell'acquisto Che so Di libri Di DVD Ma questo è Soltanto Un esempio Di come La collettività Il comune L'ente Possa essere vicino Nonostante Le difficoltà Della Della finanza pubblica A delle realtà Che hanno bisogno Dell'aiuto di tutti Io credo che queste elezioni Le andiamo a vincere Non chiamatemi presuntuoso Perché non Non lo sono Né tantomeno arrogante Ma credo proprio Che le andiamo a vincere Perché Anche se arriviamo secondi O terzi Per la prima volta Dopo vent'anni Abbiamo detto Le cose come stanno Per questo Le andiamo a vincere A parte il fatto Che io sono sicuro Che arriveremo primi E quindi il paese E quindi il paese Il nostro paese La nostra albanella Quella che noi siamo Lo cambiamo Ma lo cambiamo Non perché siamo Più bravi Degli altri Ma perché Diremo A chi ci ha preceduto A chi ha fatto Un buon lavoro Magari Non raggiungendo Gli obiettivi Che si era prefissati Diremo Fai provare a noi Perché noi Conosciamo altre strade Altri linguaggi Abbiamo un altro modo Di pensare La gestione Della cosa pubblica Abbiamo l'idea Della condivisione Delle decisioni Quella della partecipazione Popolare Alle decisioni Io lo dico sempre L'ecomostro Di Santa Sofia Non è brutto Perché è brutto Ma è brutto Perché ha lasciato Una ferita Nella memoria collettiva Del nostro paese L'abbattimento Proditorio e notturno Del casone Morra Non è stato Un fare spazio Per mettere dei pilastri E' stato un accantonare Un pezzo di memoria Storica di questo paese Molto sentito Su ad Albanella paese Per dire Facciamo altro Beh quella no Quella memoria Quella memoria Va rispettata I depositari Di quella memoria Sono i nostri anziani E qui ritorniamo Alle politiche sociali L'ho detto Qualche altra volta Noi viviamo Sui sacrifici Dei nostri vecchi Ce li stiamo mangiando Questi sacrifici Perché Noi a nostra volta Non riusciamo a farne Degli altri Per i nostri ragazzi Allora Se così è Quei sacrifici Vanno quantomeno Conservati E rispettati E i depositari Di quei sacrifici Vanno Vanno aiutati Ma vanno aiutati Nelle Nell'assistenza Dei Dei Non autosufficienti Vanno aiutati Nella Nelle piccole esigenze Quotidiane Quelle magari Di dover Salire Su in cimitero Per i nostri Vecchi di matinella O magari Arrivare un attimo A capaccio scalo Per andare a fare Le analisi All'asla Anche questo Ho sentito Dai nostri Contendenti Dai nostri Avversari Però domando Questa non è Un'invenzione Di oggi Se ne è parlato Sempre Di un minimo Di trasporto pubblico E quando loro Avevano La responsabilità Amministrativa Perché Non è stato fatto Ce lo vengono A dire adesso In campagna elettorale Beh È una bella promessa Noi ci crediamo Se loro Dovessero vincere E ne dubito Ma sono credibili E ritorniamo Al discorso Al discorso iniziale Quello dell'essere Credibile Quello della Del poter fare Le cose Che si dicono Lo vedete I miei comizi Sono diversi Da quelli Da quelli Degli altri Ripeto Non ho Le slide Non sono così Preciso E puntuale Perché a me Piace soprattutto Ragionare Se io potessi Stasera Vi direi Sediamoci E parliamone Non si può fare Un comizio Ok Ma il comizio È il momento In cui Ci si confronta Ci si dovrebbe Confrontare In cui io dovrei Sostenere le mie tesi E Convincervi Che sono Le migliori Convincervi Che Quelle tesi Sostengono Una speranza Le tesi Che sosteniamo Noi Sono sicuramente Le migliori Ma non rispetto A quelle Degli altri Perché nella sostanza I problemi Sono quelli E le soluzioni Anche Ma in quella Credibilità Che dicevo prima Noi siamo Un grande paese Siamo molto Larghi Siamo molto Molto divisi Sul nostro territorio Ci sono Borghi importanti Bosco San Nicola Cerrina Albanella Paese Ovviamente Matinella Quindi Tutte realtà Che hanno Caratteristiche Peculiarità Diverse Che hanno Problemi Diversi E potenzialità Diverse Non è possibile Far crescere Una parte Del paese A detrimento Dell'altro Altrimenti Cresceremo Storti Cresceremo Con un braccio Destro Più sviluppato Del sinistro Quindi Il nostro obiettivo È quello Di far crescere Insieme Tutto il paese In maniera Armonica E per fare Questo È necessario L'aiuto Di tutti Ma l'aiuto Non come Veniva indicato L'altra sera Così A livello A livello Volontaristico Partecipativo No no Io vi chiedo Di partecipare In maniera Quasi istituzionale Alla vita Del paese Perché vi dico Che se noi Saremmo eletti Nel nostro Statuto Comunale Metteremo L'obbligo Di redigere Il bilancio Sociale Ma che è Questo Il bilancio sociale No c'è Il problema Di strade No il bilancio sociale È una cosa importante Perché È un bilancio Né più e nemmeno Come quello economico In cui però L'amministrazione Dopo aver sentito E dopo essersi Confrontata In maniera Istituzionale Con i propri Cittadini Fissa degli Obiettivi Annuali E dopo un anno Ne dà conto Quindi Se la mia Amministrazione Dovesse dire Noi l'anno prossimo Vi asfaltiamo Via Forestelle E noi lo dobbiamo Fare Perché lo abbiamo Deciso insieme Con voi E nel deciderlo Insieme con voi Abbiamo detto Dove prendevamo I soldi Ma il paese Deve crescere In maniera armonica Dicevo prima E deve crescere Tutto Non solo Nelle sue Borgate Ma anche In tutte le sue Professionalità In tutte le sue Potenzialità Umane Come al solito In sottoscadenza Elettorale Ci viene sventolato Qualche importante Risultato Che Aspettano un minuto Che ora arriva Quest'anno È la volta Del PUC Io purtroppo Sono sufficientemente Vecchio Da ricordarmi I piani regolatori Generali Sventolati 15 anni fa Almeno un paio di volte Eppure quello Quello Che stanno arrivando Io non lo conosco Da un noto Da un noto avvocato Da un noto Scusate Da un noto Architetto È perché Noi non avevamo Architetti Non avevamo Geometri Non avevamo Ingegneri Nostra gente È perché Con questi nostri Tecnici Non ci si poteva Confrontare Non lo si poteva Studiare insieme Questo significa La crescita armonica Di un paese Quando tutte le sue Componenti Partecipano In maniera uguale In maniera In maniera libera Quando Tutte le aziende Del paese Contribuiscono Con il proprio Lavoro Alla gestione Della cosa pubblica All'espletamento Dei servizi pubblici Abbiamo tante ditte Facciamoli lavorare tutte Abbiamo tanti professionisti Facciamoli lavorare tutti Non facciamo Le liste Questo significa Crescere in maniera armonica Ma crescere in maniera armonica Significa anche pensare Ad una politica fiscale Un po' più giusta Alle tasse non piacciono A nessuno Soprattutto in questo periodo E fra un po' E tempo di dichiarazioni Un po' più giusta Significa Che ognuno paghi In ragione Della propria capacità E in ragione Delle proprie condizioni Del suo nucleo familiare Oggi noi paghiamo Un addizionale comunale Dello 0,8% Se guadagni 9.999 euro Non la paghi Se guadagni 10.001 euro La paghi Io non penso Che quello che guadagna 9.999 euro Se la passi Molto peggio Di chi Guadagna 10.001 euro Allora dico Adottiamo un sistema Progressivo Facciamo pagare Un po' di meno A chi ha un po' di meno E un po' di più A chi ha un po' di più Ma lo stesso discorso Io lo faccio anche Sulla Sulle altre imposte locali Lo faccio per esempio Su quella che una volta Chiamavamo I.M.U. I.C. Adesso I.M.U. Non so come diventerà Tasi Moduliamole aliquote Ma moduliamole anche In ragione delle condizioni Anche di un cozziente familiare Che va un po' più oltre Di quello Che ci è consentito Dalla normativa Nazionale Perché Se un figlio Fino a 26 anni Te lo tieni a carico E quindi te lo puoi scaricare Dalla Tasi È un figlio Che ha problemi E disagi E te lo tieni a carico Una vita Non lo butti A 26 anni E quindi Quella condizione Di disagio Quella condizione Di necessaria Solidarietà Che bel termine Ogni tanto Bisognerebbe ricordarsene Queste cose Quel necessario Tasso di solidarietà Deve continuare Anche dopo I 26 anni Prima i miei amici Hanno parlato Di spazzatura Di immondizia Di tarsu Mi hanno detto Mi raccomando Non usare termini tecnici Usa Adass Ramnitz 82% E oltre Di raccolta differenziata Il costo Che il nostro comune Ha pagato Nel corso degli anni Nonostante Le percentuali Di differenziazione Crescessero È stato sempre Crescente Anche quello Quindi di conseguenza Anche la nostra Tassa è stata Crescente Ma è stata Crescente in maniera Anche qui Disarmonica Abbiamo penalizzato Eccessivamente Le nostre aziende Soprattutto Quelle aziende Che per la loro Struttura Hanno bisogno Di grandi Piazzali Che non producono Immondizia Ma che servono Semplicemente Come aree di servizio Come aree ausiliari Ebbè abbassiamo Un po' le quote Anche su quelle Perché tanto Quelle aree Non producono Spazzatura Quindi non producono Chili Da portare In discarica O alla differenziazione E se non adottiamo Questo criterio Vuol dire Che stiamo facendo Pagare un po' di più A chi dovrebbe Pagare un po' di meno In una precedente occasione Dissi Per carità di patria Non parliamo Della sogget Ma qui a forza Di carità di patria Estendere veli pietosi E qua diventa Una coperta Diventa Ma proprio Un bel piumone Di quelli doppi Pesanti Parliamone invece Della sogget All'improvviso Tutti quanti noi Ci siamo scoperti Evasori Perché tutti quanti noi Almeno negli ultimi Dieci anni Avevamo Pagato In base a quello Che tecnici Incaricati del comune Ci avevano indicato Come superficie Imponibile All'improvviso Abbiamo scoperto Che quel calcolo Che non avevamo Fatto noi Ma che avevano fatto I nostri tecnici Non andavano più bene E quindi eravamo Eravamo evasori Eravamo evasori E sulle tasse evase Ci abbiamo dovuto pagare Tasse Sanzioni Interessi Ma se a me Dieci anni fa Il comune Mi ha detto Che il vano Sottoscala Non si paga E poi Improvvisamente Scopriamo Che si deve pagare Ma per quale motivo Me lo fai pagare In maniera retroattiva Fammelo pagare Da adesso in poi E quindi Tutti quanti Ci siamo scoperti Evasori Fermo restando Che poi Chi si è sbagliato Chi ha scoperto Di aver pagato Per cinque anni Più di quello Che doveva pagare Ma tutto questo Va bene Tutto questo va bene Se l'avessimo fatto Noi Con le nostre risorse Così come facemmo Dieci anni fa Incaricammo Dei nostri tecnici Dei nostri ragazzi Gli dicemmo Andate a misurare Portateci i risultati E sulla base di quelli Imporremo i nuovi Faremo i nuovi ruoli No Questa volta Ci siamo dovuti affidare Anche qui A risorse esterne Abbiamo dovuto Prendere il 30% Di quello che si recuperava Sulle vaso Gli abbiamo dovuto dare A Sogget Che se l'è portata A Pescara Non l'ha lasciato qua Io non dico Che il 30% È poco È molto Per me è moltissimo Ma se lo avessimo Fatto recuperare A nostri servizi Quel 30% Sarebbe rimasto qua Io non ce l'ho Le tabelle Dove si possono Risparmiare I 170.000 euro Io vado col buon senso Se quei 180.000 euro Di recupero Di evasione Fossero rimasti Tutti qua Beh probabilmente Voglia riparare Via Forestelle O a fare altre cose Quindi è un problema Di buon senso Di capacità Così come è stato Un problema Di Di buon senso E di capacità Al contrario Lo dicevo prima Quello deve Dover spendere 80.000 euro All'anno Per il noleggio Di Dei cosiddetti Gasoloni Quegli autocompattatori Che servono Alla raccolta Alla raccolta Dell'immondizia I nostri Adesso oramai Sono andati Sono andati De relitti Potevano essere Recuperati Pagando forse La metà Di quello Che abbiamo pagato In una sola Annualità Però Non avremmo Fatto forse Bella figura Con qualcuno Ma il problema Della spazzatura Non si risolve Soltanto con gli 80.000 euro Di gasoloni Il problema Della spazzatura Che non è quello Della Sogget Si risolve Pensando anche In un modo diverso La possibilità Di poter Imporre La tassa La Tarsu Non è una È una tassa Che si paga A copertura Del servizio Se il nostro Comune Spende 800.000 euro Per il servizio Di raccolta E smaltimento Rifiuti Noi tutti I cittadini Dobbiamo cacciare 800.000 euro Però C'è chi produce Più spazzatura E chi ne produce Di meno C'è chi è più attento Nella differenziazione E chi invece Se ne Se ne dimentica E beh io dico Sì Facciamo pagare In base ai metri quadri Adesso c'è anche Il coefficiente familiare Quindi si combinano I due fattori Ma io dico Premiamo Quei cittadini Che sono un po' Più bravi Degli altri Nel differenziare Premiamo Quei cittadini Che magari Si caricano La macchina Di qualche Cartone di vetro Di bottiglie di vetro E le vanno a portare Direttamente All'isola ecologica E non li premiamo Perché loro Sono più bravi Ma perché Noi comune Abbiamo risparmiato Un costo E questo costo Gli va riconosciuto Quindi Introduciamo Dei meccanismi Di premialità Sulla 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 spazzatura Sulla tassa Dell'immondizia Che anche in questo caso Non me li sto inventando io Li ha detti Anche qui L'assessore al ramo Due anni fa E qui ritorniamo Alla credibilità Le soluzioni Sono quelle Le soluzioni Ce le hanno dette Loro Cinque Dieci anni fa Due anni fa I problemi Li hanno denunciati Loro Tre mesi fa Ma loro Dov'erano? Non credo Che la responsabilità Possa mai ricadere Su di noi Non guardiamo al passato Prendiamo solo il buono Il brutto Ce lo dimentichiamo È giusto Però le responsabilità Vanno indicate Il capire il perché Ci sono stati Quegli errori È importante Perché Quegli stessi errori Non possano essere Ripetuti In futuro E ripeto A chi ha Quelle responsabilità Diventa difficile Poter Riconsegnare Quella giusta dose Di fiducia Che è necessario Che ci sia Tra Amministratori E cittadini elettori L'ho detto altre volte E lo ripeto Anche stasera In conclusione Se no Mi cacciate fuori Queste elezioni Voi non scegliete Fra me L'avvocato Lanza O il dottore Iosca Scegliete fra un sistema Che si è consolidato Negli ultimi vent'anni E nel quale Il dottore Iosca L'avvocato Lanza Altri protagonisti Hanno avuto ruoli diversi E un modo nuovo Di intendere La possibilità Di gestire La cosa pubblica Uno dei rammarichi Del dottore Iosca Era quello Di non poter O meglio Uno degli obiettivi Del dottore Iosca Era quello Di poter riattivare Il primo possibile La sirena Che segnava L'ora Dalla torre campanaria Del vecchio municipio Beh Quella sirena Non l'ho spenta io A me piacerebbe essere Io Quello che va A rimetterla in funzione Ma non l'ho spenta io La nostra casa comunale È stata lasciata Quattordici anni fa Ma quella porta Non me la sono chiusa Dietro le spalle Io Ci sono stati Quattordici anni E loro hanno avuto Diverse responsabilità E diversità Di ruoli E adesso scopriamo Che fra due giorni Apriamo Le buste Per affidare L'incarico Della ricostruzione Della vecchia ala Del comune Beh Una coincidenza E una coincidenza Due coincidenze Sono un indizio Tre incominciano A essere una prova Una prova di che cosa? Io lo so che quando parlo Sono lungo E forse non riesco Ad appassionare L'uditorio Come sanno fare Gli amici Renato E Fabio Però vedo che Siete Siete attenti Siamo attenti La cosa mi fa piacere Perché non faccio Lo spettacolo E cerco di parlare Di cose concrete Anche se non mi conoscete Anche se molti di voi Non conoscono La mia faccia E stasera Penso di averli In qualche modo Colmata Questa lacuna Non conta La mia faccia Conta quello Che ci siamo detti Questa sera Perché non ho parlato Solo io Hanno parlato loro Ma soprattutto Avete Avete parlato voi Ne parlerete stasera Ritornando a casa Ne parlerete domani Quando magari Telefonando ad un vostro figlio Lontano Gli direte Ma c'è uno Che boh Non lo so chi è Ma dice le stesse cose Che penso io E allora Caro Luigi Pasquale Nicola Giovanni Il 25 Cerca di farti Una passeggiata Nel tuo paese Perché forse ci rimani Io non ho Nient'altro Da dover aggiungere Le chiusure Ad effetto Adesso non me ne vengono Quindi vi chiedo scusa E vi ringrazio Soprattutto Dell'attenzione Grazie E buona sera Ti vengo a prendere Perché non ho scelta Perché so vivere Una sera per volta Io ti vengo a prendere Perché dove andiamo Non importa E buona sera Di un po' E buona sera Di un po' E buona sera